Ok, ci siamo. Allora, allora, qua abbiamo 5 minuti, Vox, per... Qua c'è un countdown, vedi? Allora, io prendo il termometro, poi la torcia UV e il libro, da lasciargli il libro, ok? E prendete la videocamera, la videocamera così la piazziamo, bro. Dov'è la mia torcia potente? Hai preso... Come hai preso quella... No, avrei preso quella normale, bro. Possibile che tu abbia quella potente. Non quella potente. Non la puoi prendere. Come non posso prendere? No, perché non sei a livello 3. Prendete anche il puntatore Doz, raga, e la videocamera. Io sono full, io prendo il sale. Dobbiamo posizionarla, Fee. Sì. Minchia, brutta sta casa. Cos'è che fa il puntatore Doz? Quello verde che fa vedere i movimenti del fantasma. Allora, adesso io accendo il termometro. Com'è che non abbiamo neanche guardato come si chiama? Abbiamo già la prima attività, eh? Si chiama Ruth Thompson. Tomson. Merda. Rat Thompson, forse. Rat. Ok, dai, cerchiamo ora la stanza infestata. E una volta che è infestata, una volta che la troviamo. Quindi, quindi, hai capito? Il puntatore è quello là che hai te, Fee. Quello che hai tu. Se tocca, guarda. Solo se tocca, guarda. Sì, sì, sì. Quindi, ogni volta che usciamo, tipo, chiudiamo anche le porte. Cerchiamo di chiudere un po' di porte. In modo tale che se tocca qualcosa, lo rileviamo più facilmente. Questa qua è tutta un piano. Però dobbiamo trovare prima, raga, la stanza. Secondo me è giù. Dopo iniziamo a chiamarlo pacificamente. E... Raga, io sono giù, eh. Raga, l'ho trovata. Raga, l'ho trovata la stanza. Ho trovato la stanza. Venite giù. Giù, 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 giù. L'ho trovata. Vado giù io, eh. È questa qui. Questa qui di fronte. Nove gradi. Raga, nove gradi però, qua. È strano, no? Vediamo l'ulice spetta. Eh, forse è proprio, proprio per quello. Metto qua il libro... Ho lasciato qua il libro, io, eh. Nove gradi. È strano, nove gradi. Eh, vediamo se scrive. Dì, di dove sei? Chiedi, di dove sei? Quanti anni hai? Di dove sei? No, dove sei, non di dove... L'origine non ci interessa, diciamo. Di dove sei? Oh, ha risposto. Ha parlato. Però non ho capito. Ha parlato, quindi. Vediamo se... Sì, sì, sì. Accendete la luce? Vediamo se ha scritto qualcosa. Dove sei? Avrà detto beyond you? Non è che ha detto beyond you? Raga, mi sa che è dietro di noi, perché a me... Vabbè, io accendo la luce un attimo. Vediamo se ha scritto. Aspetta, se no, voglio mettere... E' venuta una paura a voi, a me è venuta. Aspetta, voglio mettere la telecamera, voglio mettere. Eh, metti la telecamera. Porta, raga. Si è aperta la porta. Si è aperta la porta? No, non sono stato io. Sì, sì, giù. Porco, due. Aspetta, allora, vediamo se ha lasciato delle impronte. Vieni col puntatore. Fefe, fefe, vieni giù con le M, là. Il cazzo, là. Vediamo se ha toccato il libro. Sembra non averlo sferato. Sei qui dentro? Mi sa di sì, è 6 gradi. 6 gradi, bro. Sì. Allora, impronte non dovrebbe averne lasciate, perché... Quindi c'è un indilzio, giusto? Sì, perché si è toccato la porta. Però ci serve Fefe. Fefe, ci servi. È caduto. Guarda come si è messa, Vox. Scusa. Porco, due. Aspetta. Devi girarla. Non gli ho pensato che si spette. Oh, 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 oh. Via, via, via. Via, 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 via. No, 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 Gianni, aiuto. Sono qua, sono qua, sono qua. Sono qua dietro. Sono qua dietro. Via, via, andiamo, 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 andiamo. Andiamo via, andiamo via, andiamo via un attimo. Fatti sentire. No, no, via, via. Bro, bro, aspetta. Abbiamo un attimo. Sali. Sali, Vox. Scappa, scappa. Che sta succedendo? Che corpo, come... Ci ha fatto un strano verso, porco tuo. Andiamo via, andiamo via, andiamo fuori qua. Eh, bro, aspetta. Ho lasciato giù. Cioè, non ho messo la fotocamera. Porco due. Prova a vedere quant'è l'attacco qua che ci ha messo. Quanto è? Quattro, era quattro. Era quattro. No, minchia, guarda quattro che ha quattro. Fetti, ci vuoi baitare, porco due. Dieci? Abbiamo rinziato solo di morire. Può attaccare. Poi nell'orecchio, lo sentite? Mamma mia. Era quattro. Era quattro. Proprio falso, porco due. Allora, la caccia è incominciata, allora. Allora, la videocamera, vabbè, la porto io. Questa roba qua, cos'è che è? Devo premere qualcosa io. Temperatura di congelamento no, eh. Temperatura di puntatore dozza. Dobbiamo metterlo sulla stanza. Le avete chiuse voi queste? Sì, sì, sì. Minchia. Sì, io. Ha spento le... Ah, ok. Allora, andiamo giù insieme. Butto il sale, butto. Ma stata, comunque ha spento le luci. Secondo me c'è un indizio che vuole... Sì, adesso voglio controllare bene che non ci siano impronte. Ce l'hai le M, bro? Non mi dà niente le M. Non ha toccato... Oh, invece qualcosa ha toccato. L'arra, vado su. Eh, allora devo posizionare. Aspetta, bro. Fatti sentire. Oh, wow, wow, wow. Si è fatta sentire come? Chiudi la porta, chiudi la porta. Sì, 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 sì. Ma io ho visto comparire anche qualcosa, eh. Se non sbaglio proprio... Dalle M, hai visto qualcosa sul verde? Sì, sì, sì. Sta salendo, sta salendo. Sì, sta salendo. 5, 5, sta salendo. E com'è che si chiama? Com'è che si chiama? Com'è che si chiama? Se tu hai visto qualcosa vuol dire che ha funzionato il coso. Anche il sale, anche il sale, anche il sale. Anche il sale, boys. Anche il sale, anche il sale. E Vox, Vox, Vox. Vieni con me, vieni con me. Allontaniamoci un attimo da sta zona. Arriviamo un attimo da te e facciamo il punto della situa. Più che altro dobbiamo prendercela con calma, se no... Allora, impronte non le fa. Allora, Fè, punto della situazione. Spirit Box c'era. Temperatura di congelamento o no? Ecco, l'ho vista, l'ho vista, raga, l'ho vista dalla telecamera. Davvero? Hai visto che ti ho detto? Sì, sì, l'ho vista passare dalla telecamera, l'ho vista passare, ma è tipo con un bacio al fatto. Come si fa a vederla? Vediamo. Aspita un attimo. Se volete entro, li faccio una foto. Ecco, l'hai vista. Ecco, 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 ecco. No, non l'ho visto bene, ti giuro. Sulla destra, trasparente, sulla... Sì, stai inquadrando il monitor. EMF livello 5 non te l'ha dato. Eh, ma lo sta facendo, bro. Se noi vediamo lo spirito è grazie al puntatore, eh. Quindi vuol dire che c'è. Proviamo a vedere un attimino quello che ci dicono intanto di questi due. Che sappiamo che ci sono al 100%. Andiamo per i gradi. Adesso, sappiamo che il puntatore Doz e la Spirit Box sicuramente hanno funzionato. Quindi andiamo, spettro. Lo spettro funziona con l'EMF livello 5. Quindi, in teoria, l'EMF livello 5 non credo l'abbia fatto. Però, vabbè. Phantom, impronte digitali, Spirit Box e puntatore Doz. Le impronte digitali non sembrava. E vedi, dalla cosa qua dovrebbe essere. Ci sono delle sfere di luce. Anche uno yokai. Caccia uno yokai, può sentire solo le voci vicino a lui. Parla vicino a uno yokai, lo farà arrabbiare aumentando la possibilità di un attacco. Phantom, phantom. Servono le impronte digitali e ce le ho io. Per uno yokai, yokai servono le sfere di luce. Aperto la porta. Aperto la porta, bro. Non credo sia uno spettro, allora. Aperto la porta. Però non è che sono quelle là le sfere di luce, allora. Quelle che dicevi tu, Fe. Vedi che ci sono dei pallini. Secondo me sono sfere di... Oddio, ancora. Quello lì è il... Sì, 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 è uno yokai, raga. Sono quasi sicuro al 100%. Sono sicuro al 100%. Le impronte digitali non ci sono. È uno yokai, yokai. Fidatevi, raga. Fidatevi, yokai. Vai, vado a prenderlo. Vado a prenderlo al volo, raga. Andiamo insieme e non andiamo. Dai, andiamo tutti assieme e andiamo a riprendere la roba. Ok, è andata verso di qua. Oddio. Quanto è? Tre. Prendete un oggetto a testa e andiamoci. Via. L'ho presa. Porco, due. E' fatto che gara addosso. Chiudiamo. Addio, casa. Sappiamo che cosa sei. Sono yokai al 100%. Dai, secondo me. Io l'ho selezionato. Basta, giusto? Basta, basta. Yokai! Uhu! Grandi. A me sono tre, solo tre. Eh, anche a me, anche a me. Donald Clark. No, non chiamate. No, ma porco, due, bro. Ma è la stessa. L'obiettivo è fare camminare un fantasma sul sale, così prendiamo più soldi. Bene. Ok, qua dentro non è, raga. È che per vedere se... Non c'è chiamarlo come prima. Se no, non c'è chiamarlo, parlargli. Eh, ma adesso troviamo la stanza dove fa un po' più freddo. E così capiamo dov'è. Raga, mi sa che potrebbe essere qua, eh. Qua da qualche parte. Ma qua c'è un cotton fiocco sul letto. Ah, sì. Aspetta, aspetta. Dove, dove, dove? Ah, guarda. Non è un cotton fiocco, è un osso. Non prende... Aspetta, prima di prenderlo, bro, andiamo a fargli la foto. Gli facciamo la foto. Non prendetelo, raga. Fateli la foto così prendiamo soldi, eh. Giuro che se è nella stessa stanza, vinciazzo, eh. No, qua prima già mi dava freddo. No, non è qua. 13 gradi, raga. Secondo me è qua dentro, eh. 13 sono tanti. Eh, però comunque quando arrivi verso i 13 vuol dire che potrebbe esserci qualcosa. Mi ha suonato il puntatore Dozmos. Il problema è. Mi ha suonato, però non ho visto di quanto. Si chiamava Donald qualcosa. Prova, prova a puntare da qualche parte, bro. Punta da qualche parte. L'MF, dov'è che ti ha suonato? Posso. Oh, 9 gradi, raga. È qua in cucina, mi sa. Aspetta, aspetta. Chiamava, parlaci, parlaci. 13 gradi. No, qua dentro, qua dentro. Sì, sì, sì. Aspetta, è qua, eh. È in bagno. Eh sì, è qua, è qua, è qua. 13 gradi. Aspetta che mi vorrei prendere la videocamera. Potrebbe essere... No, aspetta, bro. Aspetta, non mi sta più dando un cazzo, sinceramente, ora, eh. Dobbiamo... Eh, 6 gradi, raga. È qua in cucina, è qua in cucina. Qua, 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 raga. Questa qua è la stanza giusta, è questa qua. Mettila qua su un angolo, bro. La metti qua su un angolo. Guarda, guarda, qua, qua, qua sul... Vai, perfetto, sì. Sul termo. Chiudiamo per bene le porte così, vediamo se c'è un'interazione. Hai anche l'MF, bro. Hai anche l'MF. Vediamo dove proietta bene. Oh, cazzo, hai sentito? Hai sentito, bro? Sì, sta vibrando qualcosa. Eh, sì. Guarda qua che ha toccato la porta, mi sa, eh. Aspetta, aspetta che devo piazzare... Oh, 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 oh. Metti, metti l'MF, bro. Buttalo a cazzo. Aspetta che devo piazzare, infammi, sta merda. Mettilo anche per terra, dove vuoi. Anch'io. Raga, guarda le luci. Guardate le luci. Aperto quella porta lì, Gianni. L'ha aperta? È andata lì. Sì, sì, sì. A due, a due, a due adesso. Ok. Ah, questa qua, ok, ok. Vediamo se c'è l'impronte. Aspetta. Eh, sì, guarda qua l'impronta. Guarda l'impronta. Ok, allora, adesso chiudiamo un attimo, chiudiamo un attimo. Andiamo da Fefe. Oh, guarda l'impronta. Sì, sì, sì. Anche prima, anche prima l'abbiamo trovata di là. Guarda, hai riaperto la porta. Butta il sale qua, bro, qua sulle porte. Metto, devo prendere il libro, raga. Prendo anche il libro. Metto il libro, così lasciamo tutte le prove, raga. Allora, raga, facciamo il resoconto un attimino. Impronte digitali, sì. Hai, hai la spirit box, box? Quella per parlargli, se l'hai? Parlo, sì. Ok. Sì, sì. Ah, guarda qua il sale, hai visto? Dove sei? Prova a dirgli dove sei. Dove sei? Ha risposto, eh? Dove ha detto? No, io ho capito qua. Non ho capito. Io non ho capito. E allora, andiamoci un attimo. Sì, ho parlato. E allora, questa è un'altra cosa. Andiamo a fare un recap, allora. Allora, spirit box, sì. E quindi, sono già due, in teoria. Impronte digitali, spirit box e puntatore dots. E in teoria, non l'hanno ancora fatto, il puntatore dots. Quindi, potremmo... Il poltergeist, invece, vuole il libro spiritico. E manca il libro spiritico. Però, eh, minchia. Però, se non ha lasciato un cazzo, finora. Eh, eh, bisogna andare. Andiamo a vedere. Magari ha lasciato scritto, ora. Vado al volo, raga. Vi dico se ha scritto... Raga, sta aprendo la porta ora, in questo momento. Sta aprendo la porta, in questo momento, raga. Ha aperto la porta davanti a me. Girate le camera verso. No, no, no. Col cazzo che la giro, bro. Col cazzo. Ha aperto questa porta, boys. No, dai, è importante che la gi... Oh, raga. Qua ha toccato qualcosa, eh. Qua ha toccato queste cose qua. Questa è la macchinetta, l'ha toccata. Tre. Giord... No, ehm... Clark o qualcosa. Oh, oh, porco due, porco due. Esci, esci, vieni qua, vieni qua. Esci, esci, esci. È incazzatissimo, bro. Scappa, scappa, scappa. Ha chiuso la porta, bro. Ha chiuso la porta. Entriamo da qualche parte. Siamo morti. Io mi so, eh. Siamo morti. A me, a me, a me. Prende me, prende me, prende me. Porco due. Mi ha preso ed era incazzato, aveva una naccetta in faccia, mi ha dato. Naccettata in faccia. Ok, raga. Non ha scritto sul libro. Box, entro io dentro un attimo, veloce, e torno indietro. Che fai, scuola? Che fai che cosa? Vado a vedere il libro, vado a vedere. Ma io sono andato, però non c'è un cazzo. Vengo con te, FF, così se lo vedo. Raga, raga, via, 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 esci, 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 è qua, è qua di fronte a te, esci. Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Mi ha chiuso la porta dietro, mi ha chiuso la porta. Ah, io la vedo aperta, minchia. Ah, lo sto guardando. Eh, sì, ho visto morirlo. L'ho visto camminare. Corre lui, eh. E allora, bro, se l'hai visto vuol dire che il puntatore Doz si vede. E allora è quello col puntatore Doz. Il Phantom, il Phantom. Sì, sì, sì. Se tu l'hai visto da là vuol dire che era il puntatore Doz. Sì, sì, ti giuro. Era solo posizionato in un punto sbagliato. Allora, prima adesso l'abbiamo posizionato bene. Sì, sì, è il Phantom. Visto tutto quanto. Fai partire la camionetta qua. Fai partire la camionetta e andiamocene con Phantom nelle tasche. Anche quest'oggi le avventure dei Ghostbusters hanno portato alla vittoria. Phantom bastardo. Eccolo qua. Raga, 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 ma chi ci ferma più? Ma chi ci ferma più?